Sebastiano Milan, gara 2, sconfitte in casa, un'altra battaglia però contro Piacenza. Sì, 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 assolutamente, 3-1 per Lolo questa volta da noi, hanno fatto una buonissima gara, sono andati forti. Un po' di rammarico per il secondo set che abbiamo perso, 25-23, era forse da portare a casa, però vabbè, la pallavola è questa, non è che bisogna fare un dramma. Bene, bene Lolo, noi abbiamo fatto vedere delle belle cose, siamo sempre rimasti attaccati alla partita, uno pari e adesso tutto può succedere, è una bella partita secca, quindi non si possono fare pronostici. Loro hanno giocato meglio rispetto all'andata, voi avete mantenuto un buonissimo standard, comunque c'è equilibrio tra le due squadre, questo è un dato rifatto. Ah, guarda, assolutamente, io credo che loro, come tutte quante le squadre, abbiano dei picchi di gioco molto molto elevati, però cavolo, noi questa sera siamo riusciti a stare liberamente attaccati, a volte anche sopra, quindi non ho visto grossissime lacune dalla nostra parte, ecco, bisogna giocarcela a viso aperto come abbiamo fatto in gara 1, ma anche come abbiamo fatto questa sera, guarda, perché ripeto, secondo me è una partita che nel secondo set con un pallone diverso magari poteva girare diversamente, però a posteriori si possono dire un sacco di cose, hanno vinto loro, bravi loro, ci vediamo domenica.